Un altro inchino da parte dei manager di Takata. E ne serviranno ancora molti, di scuse però, per la perdita da 105 milioni di euro registrata l'anno scorso. A pesare sono i costi per lo scandalo dei airbag difettosi, già costati la vita a 11 persone, e per quello gli inchini non basteranno mai. Il produttore di componentistica giapponese, a cui le autorità statunitensi hanno da poco imposto 40 milioni di nuovi richiami in officina, annuncia l'avvio di un processo di ristrutturazione, tra le ipotesi la riduzione della divisione che produce dispositivi di gonfiaggio e la vendita di attività.